Benvenuti a tutti e a tutti a questo nuovo corso che ho deciso di dedicare alle espressioni regolari. Ecco, questi elementi usati molto diffusamente in ambito informatico, spesso a torto ragione, non so, vedrete poi voi, tirerete le somme voi alla fine di questo corso, se è vero che siano così complesse, così temute come spesso si ritiene o si legge, oppure no, ecco. Comunque, questo corso è un po' di tempo che mi frullava nella testa, ovvero che mi ero immaginato di organizzare in un certo modo, di farlo, sì, no, avevo avuto anche dei dubbi inizialmente sull'opportunità di presentare un corso su questo tema per il mio canale, che come dico spesso e volentieri è dedicato non necessariamente a degli esperti, ma anzi a degli utenti, come li chiamo io, comuni. Ecco, noi ci consideriamo degli utenti comuni, quindi non necessariamente dei tecnici, ed ecco che il tema espressioni regolari è tipicamente tecnico, è un qualcosa che effettivamente può risultare ostico ai non addetti ai lavori. Però, insomma, quando un'idea comincia a frullare in testa, poi la si lascia dormire per un po', poi torna galla, poi la si rimette da parte un'altra volta e così tira e molla e alla fin fine mi sono deciso a preparare la scaletta con le varie parti del corso, sperando di, come sempre, di fare opera utile anche appunto per noi utenti comuni, quindi che il mio scopo, l'obiettivo di questo corso sarebbe quello un po' di disfatare, insomma, questo mito delle espressioni regolari, complesse, incomprensibili, cose da tecnici, ecco. Come sempre sarete voi a giudicare se ci sarò riuscito o meno alla fine del corso, però, ecco, tentare non nuoce, io ho deciso di provarci. Quindi eccoci all'appunto, al classico video di presentazione del corso, quindi questa non è la prima lezione ufficiale, ma appunto è una pre-lezione, se vogliamo chiamarla così, come introduzione. Cos'è un'espressione regolare? Ecco, un'espressione regolare, spesso in italiano, è abbreviata in ER e in inglese viene chiamata Regular Expression, abbreviata in vari modi, fra i quali REGEXP, REGEX o RE, semplicemente, quindi nell'enormità delle risorse che trovate in rete, molto spesso ci sono pagine in inglese, le troverete un po' queste diciture, ecco. Che cos'è, dicevo, un'espressione regolare? In sostanza è una stringa di caratteri, ecco, composta in un certo modo, opportunamente codificata, appunto, in modo da permetterci di filtrare un insieme di stringhe, ovvero in sostanza un testo. Ecco, quando noi abbiamo un file di testo, applicando con determinate regole queste espressioni regolari, noi possiamo filtrare, possiamo mettere in evidenza determinate parti di quel testo che ci interessano. Ecco, come dico qui, quindi in altre parole, grazie alle espressioni regolari, possiamo creare dei filtri, sostanzialmente, più o meno complessi, per delle ricerche, appunto, in file di testo. Quindi, dunque, stiamo trattando come materia prima sempre dei file di testo semplici, normali, ecco, dei file .txt, per intenderci, ecco. Uno scopo è quello di, sicuramente quello principale, è quello di fare da filtro, eh, queste espressioni regolari, e anche di valutare se una stringa rispetto a un determinato modello, ovvero se un pezzo di questo testo è composto in un certo modo, che, diciamo così, detto in altre parole, è comunque ancora un filtro, se vogliamo. Quindi noi applichiamo un'espressione regolare a una determinata parte del testo, se questa parte del testo corrisponde a questa espressione regolare, di riflesso vuol dire che rispetta il modello che noi abbiamo impostato nell'espressione regolare. Ecco che ancora una volta è un po' come applicare un filtro, però con un, tra virgolette, un valore aggiunto, ecco. Per esempio, come dico qua, per esempio possiamo cercare, che ne so, in tutto il testo, laddove ci sono delle lettere minuscole. Così, eh, senza uno scopo preciso, ma giusto per fare un esempio. Di tutto un testo, dove sappiamo che vengono spesso e volentieri alternate lettere maiuscole e minuscole, noi, per un qualsiasi motivo, abbiamo bisogno di filtrare, di selezionare, di individuare tutte le lettere minuscole. Questo con un'espressione regolare è possibile farlo. Oppure possiamo selezionare solo delle cifre. Quindi se in un testo, dove la maggior parte sono caratteri, ma a volte sono citati dei numeri, dei totali, delle cifre, degli anni, delle date, ecco che, con un'espressione regolare, è possibile mettere in evidenza queste parti di testo che sono sotto forma di numeri, numeriche. Oppure ancora verificare se una determinata riga di testo, ecco questo è l'esempio del modello che citavo un attimo fa, se una riga di testo è costituita, sempre per esempio, da nove caratteri suddivisi in gruppi da tre con un trattino. Ecco, questo è, per esempio, un modello. Io imposto in un determinato modo un'espressione regolare di cercare questo modello di testo, di stringa di testo, do in pasto a questa espressione regolare il mio file di testo e se trova da qualche parte una parte di testo che rispecchia questo modello, appunto, come dicevo qua sopra, questo modello, allora, non so, prenderò una decisione va bene oppure non va bene questa situazione. Comunque, ecco, vedete che tutto sommato comunque sempre stiamo parlando di filtri su questi testi che poi li impostiamo sotto forma di, tra virgolette, modello come questo caso, o semplicemente di evidenziare un gruppo di lettere di un certo tipo, o le cifre, eccetera, eccetera, ma comunque sono pur sempre dei filtri che ci permettono di evidenziare le parti di testo che ci interessano. Questo, in sostanza, è lo scopo e che cos'è un'espressione regolare. Con le espressioni regolari, tra l'altro, non abbiamo solamente la possibilità di cercare, quindi di filtrare, di evidenziare determinate parti di testo, ma anche di modificare e o sostituire queste parti di testo che noi identifichiamo, ovvero, appunto, una volta identificate queste parti, possiamo sostituirle con altre forme, con altri contenuti, eccetera, eccetera. E questo, poi, nella pratica, lo si fa per mezzo di programmi, di strumenti di utilità dedicati a questo scopo, quindi che a loro volta questi strumenti che il nostro sistema Linux ci mette comodamente a disposizione, questi strumenti, dico, hanno integrato il motore, hanno integrato il sistema delle espressioni regolari, il motore delle espressioni regolari, quindi riescono a lavorare con le espressioni regolari e a darci queste funzionalità di modifica, di sostituzione, eccetera, eccetera, oltre alla ricerca del testo, appunto. Quindi, indirettamente, attraverso un'espressione regolare, possiamo poi arrivare a modificare la forma, il contenuto di un file di testo, qualora fosse necessario, ovviamente. Ecco. Quindi, uno scopo, se vogliamo, duplice, uno diretto, quello di essere un filtro, proprio l'espressione regolare è quello, e uno scopo, o, diciamo, una funzionalità, come dire, indiretta, che è quella anche di poter poi arrivare a farci qualcosa con questo filtro, quindi modificare e o sostituire queste parti filtrate dei testi. Ecco, fatta questa introduzione, giusto per capire di cosa stiamo parlando in generale. Non è che abbiamo spiegato in pratica, fino in fondo, cosa è un'espressione regolare. Lo vedremo con le lezioni prossime. In concreto, cosa significa usare e applicare le espressioni regolari. Comunque, ecco, questo in sostanza è quello che ci si deve aspettare. Voilà. Scaletta. Dunque, la scaletta è composta, come vedete, da sette parti, di cui, però, la seconda parte, essendo quella un po' più corposa, l'ho suddivisa sempre, essendo sullo stesso tema, ho mantenuto il numero parte 2, ma l'ho suddivisa in tre, come dire, sottoparti. Ecco, parte 2, prima parte, seconda e terza parte. Comunque, fatto sta che, a meno di cambiamenti clamorosi dell'ultimo minuto, questo corso sarà composto da, almeno, al minimo, sette video, che corrispondono a queste sette parti della scaletta. Ci sarà, appunto, il prossimo video, la prima parte, che sarà un'introduzione un po' più dettagliata, ovviamente, di quella che ho fatto, poc'anzi, un'introduzione, sempre, ovviamente, sulle espressioni regolari, poi si parte con la parte, appunto, più corposa, e la più importante, fondamentale, sulla teoria delle espressioni regolari, ovvero la sintassi, cioè come si compongono queste espressioni regolari, quindi le loro funzionalità, cosa ci mettono a disposizione delle espressioni regolari, e qualche esempio, così per capire i concetti che vengono spiegati, dei primi due punti, in che qualche esempio qua e là. E questo, appunto, è suddiviso in tre sottoparti, questa parte importante, questo è il cuore del corso, finite queste tre parti, in sostanza, dovremo essere in grado, ormai, di aver capito che cos'è un'espressione regolare, aver capito com'è composta, come comporla, cosa usare per creare a nostra volta un'espressione regolare, o perlomeno, siccome, ripeto ancora una volta, il nostro canale è fatto per utenti, soprattutto e principalmente per utenti comuni, non necessariamente tecnici, quindi mi rendo conto che non necessariamente uno andrà pazzo alla fine di questo corso delle espressioni regolari, se metterà a scriverne, crearne, a manciate, ma, se non altro, un altro scopo del corso potrebbe semplicemente essere quello di essere incuriositi, di ampliare le proprie conoscenze, e di essere in grado almeno di leggere l'espressione regolare, ovvero di avere i mezzi per capire cosa fa una determinata espressione regolare, come questa che vedete sulla sinistra, ho messo così, questa immagine carina, come sfondo di questo video iniziale, e qui vedete un po' di qualcosa che ha a che fare con delle espressioni regolari, innestate in non so bene una pagina web, forse, non so, ho preso un'immagine a caso, non ho guardato il contesto, comunque qui si riconoscono delle parti che sono tipiche di espressioni regolari, vedete, si tratta di questo. Alla fine di questa parte 2 il mio obiettivo sarebbe quello di avervi dato i mezzi perlomeno per riuscire a interpretare un'espressione regolare di questo tipo, o capire, captare quali sono le parti fondamentali che fanno funzionare questa espressione regolare, e non necessariamente quella di essere poi indipendente, crearvene quante ne volete voi. Questo dipende dal vostro interesse, più o meno approfondito per l'argomento. Ecco, poi passiamo, diciamo, come dire, qui c'è un confine, questo corso, e qui si parte con un altro capitolo, se vogliamo, del corso, che è quello più, come dire, pratico, nel quale dalla parte 3 fino alla parte 7 vi mostro, video per video, l'uso che un sistema Linux fa delle espressioni regolari tramite dei programmi di utilità come grep, sed, oak, find, e rename. Ecco, questi sono 1, 2, 3, 4 e 5 esempi di programmi che noi abbiamo già tutti installati sul nostro sistema, in questo caso sto parlando di Ubuntu, ma anche altre distribuzioni sicuramente faranno la stessa cosa, metteranno a disposizione gli stessi strumenti, quindi su un sistema Linux, voi usate un sistema Linux sicuramente vi trovate già a disposizione senza dover installare nulla strumenti di questo tipo che appunto, come dicevo prima nell'introduzione qua, nella parte di modifica e sostituzione dei testi filtrati, sono proprio questi, quegli strumenti che includono il motore di gestione delle espressioni regolari e le sfruttano per svolgere il loro lavoro e permetterci di fare determinate operazioni sui nostri file di testo. Ecco, quindi dalla parte 3 in avanti diciamo è un secondo capitolo di questo corso nel quale andiamo nella pratica di utilizzo di queste espressioni regolari dopo aver studiato appunto un po' di teorie di base perché è indispensabile. Ecco, questa è la scaletta che mi sono preparato nel tempo, mi sono proposto di presentarvi e per concludere questo primo video di presentazione del corso naturalmente come sempre vi mostro qua i riferimenti in rete che ho raccolto anche durante la mia preparazione la mia stessa preparazione questi qui sono i consueti link di wikipedia o meno i quali vi possono a loro volta aiutare ad approfondire il tema sempre che vi interessi ho suddiviso questa volta i riferimenti in inglese in lingua inglese e alcuni anche in lingua italiana direttamente in italiano un'ultima nota prima di chiudere questo primo video ed è questa che in un sistema linux così come sono già disponibili a vostra disposizione comandi programmi software tipo questi che sfruttano l'espressione regolare già tutto pronto è anche disponibile un manuale proprio che parla delle espressioni regolari quindi senza nemmeno andare in rete con questi link sul web potete stare tranquillamente sul vostro sistema ubuntu e usare questo comando per leggervi un manuale sulla teoria di base dell'impiego dell'espressione regolare quindi addirittura non solo il vostro sistema linux vi permette di usare le espressioni regolari senza troppo lavoro preparatorio nel senso che è già tutto disponibile ma addirittura vi dà anche la documentazione senza nemmeno aver bisogno di andare in rete ecco a cercarla quindi questo comando e adesso lo facciamo qui man quindi il solito comando per i manuali nel terminale 7 per il settimo la settima parte capitolo del manuale regex quindi è una è ricordata all'inizio è una delle abbreviazioni date in inglese le regular expressions quindi regex facciamo facciamo enter e vediamo che parte il manuale del programmatore in ambiente linux regex vedete tra parentesi 7 regular expressions e qui diciamo che vabbè purtroppo se uno ha problemi con l'inglese è in inglese però si può sempre fare un copy and cola nel traduzione di google ecco se proprio se ha necessità o si vuole leggerlo e appunto qui in questo in questa pagina di manuale viene descritto quello che sostanzialmente noi vedremo nelle varie parti del corso viene descritta la base la teoria base del dei vari elementi che compongono l'espressione regolare quindi vedete che senza nemmeno avessi un pc in cima a una montagna senza rete wifi né cavo di rete né niente quindi un pc staccato dal web potrei comunque informarmi su come funzionano le espressioni regolari grazie al nostro sistema linux che include anche un manuale già lui stesso localmente sul vostro sistema che parla dell'espressione regolare ecco con questo concludo questo primo video introduttivo e spero di aver stuzzicato la vostra curiosità o magari no pazienza come può sempre succedere ma spero comunque di sì e quindi di ritrovarvi per il prossimo video a partire effettivamente con questo corso sull'espressione regolare con questo vi saluto vi attendo alla prossima e ciao ciao ciao